Come si può conoscere la storia di un paese? Attraverso i libri di storia, attraverso le ricerche mirate su un argomento che può essere di carattere economico, sociologico, politico. Certo, questi sono i canali consueti ai quali si ricorre, però c'è un altro aiuto che può essere dato dagli scrittori. Se noi ad esempio leggiamo Dante e noi conosciamo la storia di Firenze, la storia del tempo in maniera molto precisa, in maniera molto accurata. Noi sappiamo la storia di Guelfi e di Ghibellini, conosciamo l'ingerenza del Papa nelle vicende fiorentine, conosciamo ad esempio l'importanza delle banche, del denaro nella Firenze di allora. E questo ce lo spiega Dante, attraverso l'inferno soprattutto, ma anche il purgatorio e il paradiso. Ecco dunque la letteratura come ci può aiutare a conoscere i grandi fenomeni della storia. Se noi leggiamo, faccio un altro esempio noto a tutti, i Promessi Sposi e sappiamo cos'era nella Lombardia di allora la vita all'inizio del Seicento. Gli spagnoli, i contadini, la chiesa, tutto questo emerge con chiarezza dai capitoli di Promessi Sposi. E allora questa chiave per arrivare a conoscere il nostro paese ci viene offerta anche dagli scrittori a noi più vicini. E allora io partirei in questo nostro viaggio da uno dei temi centrali della nostra società. Un tema che ha riguardato un terzo almeno degli italiani, cioè il tema dell'immigrazione. L'immigrazione diventa un fenomeno di massa a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento. Entrano in servizio le navi a vapore e in 20 giorni dall'Europa si arriva nell'America del Sud. E allora ecco questa emoragia continua che si arresterà poi all'inizio della Prima Guerra Mondiale e questa emoragia che porta centinaia di migliaia di italiani in un altrove sconosciuto. l'America, l'America con la M minuscola oppure L apostrofo America con la minuscola, sinonimi di emigrazione. E allora c'è questo fenomeno che è un fenomeno senza possibilità di essere raccontato se non attraverso i numeri. Cosa dicono i numeri? Nel 1913 800 mila italiani emigrano. 800 mila italiani, ci pensiamo? E la popolazione di una grande città emigrano. Certo alcuni poi ritornano. Però si calcola che siano stati 30 milioni, dal 1861 al 1970, gli italiani emigrati. Certo di questi 30 milioni circa 20 sono rientrati, rimpatriati. Però poi ci sono le generazioni successive. Altro dato importante di questi 30 milioni, 8 sono donne. Ma non sono solo donne, mogli, figlie, madri, ma sono donne che da sole attraversano l'oceano. Questo è un altro dato importante. E allora chi ci aiuta a capire questo fenomeno? Gli scrittori. Certo ci sono anche le canzoni popolari. Torna sul Riento, Monasteria Santa Chiara, a Genova Massi che penso. Però ci sono anche gli scrittori. E qui è già una riflessione, si impone. Il fenomeno è affrontato dagli scrittori soprattutto quando è finito. Soprattutto nella seconda metà del Novecento. Prima è occasionalmente affrontato. È parte di alcuni romanzi. Le confessioni di un italiano, di Italonievo, nascono nel 1855. E c'è già un'immigrazione però a carattere politico. È un esilio in sostanza, come era stato in esilio anche Garibaldi nel 1933, come erano stati in esilio Mazzini, Giovanni Ruffini. Sono forme di immigrazione anche quelle, se vogliamo. E del resto padre Dante, se vogliamo allora riprendere questo concetto di esilio migratorio, è stato forse il primo nostro grande scrittore a rappresentare questa figura. Però, dicevo, nelle confessioni dell'italiano abbiamo appunto questa emigrazione del figlio del protagonista, ormai perseguitato politicamente, ma il primo romanzo che affronta il tema lo scrive colui che ha rappresentato l'Italia postulitaria. In tutti i suoi problemi lo scrive Edmondo De Amicis. Edmondo De Amicis